A seguito della sparatoria del 29 settembre, quando in via Rosselli è venuta una sparatoria che è culminata con il ferimento di un camminante attinto da otto colpi di arma da fuoco e che al momento si trova in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro di Catania, i carabinieri di noto nel pomeriggio hanno condotto nella zona un servizio di controllo straordinario del territorio volto ad assicurare la legalità e scongiurare il riperdersi di analoghe situazioni. I militari sono intervenuti in forze, all'operazione hanno partecipato 40 militari supportati da squadrone eliportato cacciatori Sicilia da cani con capacità antidroga forniti dalla Guardia di Finanza di Siracusa. I militari dell'arma hanno effettuato tre perquisizioni in altrettante abitazioni dove si deteneva potessero essere celate armi forse utilizzate durante la sparatoria. Il servizio che si è protratto fino a sera si è concluso con il sequestro di due fucili da caccia in numerose cartucce detenute in maniera non corretta e la conseguente denuncia di un pensionato netino per omessa custodia di queste armi. Mentre proseguono le indagini su quanto accaduto il 29 settembre, finalizzate ad identificare gli esecutori materiali della sparatoria, i servizi in questione continueranno nei prossimi giorni. Numerosi anche altri servizi di controllo effettuati più a largo raggio nella zona che hanno portato al controllo di 145 veicoli all'identificazione di 240 persone fra le quali due giovani sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti. Diverse anche le sanzioni elevate per contravenzione al codice della strada, in particolare per la mancanza di assicurazione in responsabilità civile e mancato uso del casco protettivo a bordo di ciclomotori. In particolare sono stati sequestrati due veicoli, tre documenti ritirati, 18 punti sottratti.